Riuscire a vedere il dono che sta dietro il conflitto. Impari a sederti nel fuoco. Mi ha aiutato a conoscere più me stessa e a integrare la mia parte marginalizzata e accettarla. Ho trovato più consapevolezza. Mi ha fatto rendere conto che tutto quello che accade è una grande opportunità di crescita. Mi sta insegnando a gestire i conflitti in maniera più umana. Riconoscere parte di me che prima non ho visto. Innescare un profondo processo di trasformazione. Io sto scoprendo a me stesso studiando Process Work. Mi aiuta a scoprire la mia vera natura. Stare seduto nella tua parte più cosciente in un conflitto, conoscendo le polarità, rispettandole e così come lo fai dentro di te, lo puoi fare nelle tue relazioni e lo puoi fare anche nel mondo. Giusto, sbagliato, bello, brutto. Stavo in questo dualismo. Invece l'arte del processo mi ha dato la possibilità di integrare gli opposti. Ti dà degli strumenti per guardare, per vedere, per vedere, per guardare in degli orizzonti che sostanzialmente sono invisibili. Conoscendo a me stesso, sto conoscendo anche il mondo. E grazie a questo Process Work che esiste. E grazie a tutti.